Ciao a tutti ragazzi qua da Exta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Oggi abbiamo ragazzi un nuovo trollbox, nuova gara troll ovviamente con l'AT20 321 e partiamo subito vai Allora finalmente ragazzi sono ritornato con i video e sicuramente in tanti di voi si saranno chiesti perché Non ho fatto video per un bel po' di tempo, ragazzi il fatto è che è da una settimana che praticamente ho la febbre Cioè ce l'ho tuttora e quindi prima non ero in condizioni di insomma fare dei video Ora sto leggermente meglio anche se sto sempre male e quindi ho deciso comunque di registrare qualcosa Allora abbiamo già l'ultimo checkpoint e il traguardo, vola qui T20 prendilo Ok perfetto ragazzi dov'è il traguardo? Traguardo dove sei? Sotto, va bene ragazzi il traguardo è sotto Quindi dobbiamo già trovare qualcosa Allora vediamo un po', vediamo un po', certo andare a fare un trollbox con la febbre ragazzi È più difficile del normale, qui non c'è nulla, no Vabbè devo trovare comunque un buco per andare sotto assolutamente Devo trovare ragazzi un buco perché il traguardo è sotto e di conseguenza serve qualcosa Allora vediamo qui se troviamo qualcosa C'è un altro cespuglio però quello è appena uscito da lì quindi mi sa che non c'è niente Infatti ragazzi non c'è niente Dove potremmo andare? Non lo so Giriamo per tutta questa zona, qui c'è un giocatore Vediamo ragazzi se in questi cespugli c'è qualcosa di buono No No, niente non c'è nulla ragazzi In questi cespugli purtroppo non c'è nessun buco Non so perché quel giocatore ci stia riprovando però ragazzi lì non c'era niente Dobbiamo guardare assolutamente tutti i cespugli perché Potrebbe esserci un buchino proprio lì per passare con l'auto Anche qui volendo potrebbe esserci No però non c'è ragazzi non c'è non c'è E allora da questa parte dove si va? Vediamo si va in un'altra piccola zona Qui non c'è niente Cioè io veramente sto esplorando tutti Tutti cespugli Boh ma sono tutti chiusi Qui c'è un altro No allora sto iniziando a pensare ragazzi che Ci sia un'altra soluzione Ora provo a salire su e vediamo Perché può essere il checkpoint si trova sotto Cioè il checkpoint si trova sotto Però può essere che si va al checkpoint magari Comunque da sopra buttandosi da qualche parte Ora vediamo un po' Non abbiamo nient'altro per salire No la cosa buona sarebbe prendere Questo tubo qui nero Si ragazzi il tubo non sembra male Andiamolo a prendere vai Vola ok siamo sopra il tubo Allora io ora voglio provare a buttarmi Ehm Non so all'esterno insomma nel tracciato E vedere ragazzi se si può Cioè intanto capire effettivamente dov'è Il traguardo E vedere se posso prenderlo Ehm Va bene ora provo a buttarmi Anche se è rischiosissimo Però Vediamo un po' Mamma mia cadi bene cadi bene Ok ce l'ho ragazzi Allora vediamo un po' Vediamo un po' Faccio un giro Intanto è come se sotto ci sia La continuazione della piattaforma Quindi Magari C'è una zona Vera e propria qui Ora non lo so Lo scopriremo Lo scopriremo perché I cespugli secondo me erano tutti dei troll Completi Niente Qui non c'è nulla sotto Qui c'è un tubo che fa un loop Vediamo se da questa parte c'è qualcosa Eh si Eh si C'è ragazzi proprio Completamente una piattaforma Vediamo se mi posso buttare da questa parte Se c'è un pezzo magari più grande Mmm Si non è male Non è male Non è male Vai buttiamoci giù Piano piano Vai T20 Non andare fuori Non andare fuori Ok ragazzi ci sono Allora io sono arrivato qui E vorrei capire Cioè questa è la piattaforma di prima Non dirmi che il checkpoint è proprio a terra No vabbè Il checkpoint ragazzi è a terra Vabbè Vabbè giustamente un troll ragazzi Cioè non me l'aspettavo Così Super semplice Andiamo a concludere No non ci credo Ragazzi non ci credo Non Cioè io pensavo che ci fosse Che so Un'altra scatola sotto Un passaggio da fare Invece no Bisognava semplicemente uscire Vabbè Comunque si La gara è molto bella Adesso ne andremo a fare un'altra Riccoci qui Altra gara Allora questa volta abbiamo le moto E dovrebbe essere ragazzi Una sorta Tipo di troll box Però con le moto Cioè una cosa Credo stranissima Comunque le moto erano Appunto consigliate Cioè Si potevano prendere soltanto queste qui Allora Vediamo vediamo Qui dove si va Sopra sto tubo piano Dov'è il checkpoint Fammelo vedere subito No non si è visto Non si è visto completamente Comunque ricompariamo Allora secondo me Dobbiamo noi cadere sopra il tubo E magari andare Già da qualche parte Perché Insomma la situazione Inizia ad essere complicata Già dall'inizio Andiamo noi da questa parte Vediamo un po' ragazzi Vediamo un po' perché Forse dobbiamo entrare O forse qui Ci potrebbe essere ragazzi Un minimo spazio Magari Vediamo Si 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 andiamo così Ok Perfetto Perfetto Ora devo però Rompere tutto No quelli sono già arrivati Ragazzi qualcuno ci è arrivato In un altro modo Io però Cos'è quello fa il medio Te lo faccio io Allora passiamo Passiamo da qui Vai passa 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 E perché non Ok ragazzi Sono passato Comunque non lo so Ah si doveva fare il giro Al contrario Noi siamo partiti Il checkpoint Per Vabbè comunque Andiamo ragazzi Andiamo Andiamo Queste gare troll Le fanno completamente impazzire Allora adesso Però che si deve fare Dove si trova Da quella parte Ma dice che è sotto O è dentro un tubo Oppure Oppure non lo so ragazzi No sotto sotto non c'è E allora sarà Sicuramente dentro un tubo Vediamo se posso sfondare Qui qualcosa Boom No niente Non si sfonda nulla E allora facciamo il giro Probabilmente il checkpoint Si trova ragazzi Da qualche parte Lì in quell'altra scatola Quindi se io ora salto Qui nel tubo Ok Dovrei riuscire Ad arrivare Ecco da quella parte Lì c'è il checkpoint Va bene Finalmente ci sono arrivato Mi devo buttare però Qui sopra il tubo Stai calmo Tu Quello ha copiato Mister trolloso Ragazzi non si fa Non si fa Medio per te Medio per te Andiamo Andiamo giù Vai sopra il tubo No Mamma mia ragazzi Vabbè Comunque sia O da sopra quel tubo Oppure Insomma entrando Si arriva Ragazzi Al checkpoint Ormai tanto l'ho visto Quindi Questione di poco Qualcuno qui ha spaccato tutto A sto punto entro E andiamo ragazzi Mamma mia Ho perso tantissimo Per trovare Sto checkpoint Qui Il fatto è che ci sono C'erano troppe cose E troppi giri Da fare Vai Ok Finalmente checkpoint Preso Allora Ora che si deve fare Si deve andare Da questa parte Ah si si E' proprio qui Pensavo fosse fuori Invece no ragazzi Ok Checkpoint preso Ora il prossimo Si trova da quella parte Va bene Si continua Impenniamo tutto Super volo Bellissimo ragazzi C'è stato proprio La precisione Di salire In quella cosa Prima E qui dice che è sotto Ok Come facciamo a buttarci giù Però Devo trovare un modo Per uscire E secondo me Gli angoli Uh Qui c'è qualcosa Vediamo se è vero Ragazzi C'è qualcosa Si si C'è un buco C'è un buco Allora io devo salire Ce la devo fare Devo salire qui sopra Ho visto l'ombra Ragazzi Si 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 può fare Si può fare Allora Io devo salire qui Così Impenna tutto Perfetto E da qui Arrivare lì Quindi Impenniamo Vai Ok Perfetto Impenna E andata E andata Anche se mi hanno visto Però Penso che ci sia già Un primo giocatore Credo di si ragazzi Allora Facciamo il giro qui Perché non vorrei Rischiare Dove sei Checkpoint E' qui ragazzi E' qui E' qui Prendiamolo Purtroppo c'è già Un primo Allora Andiamo da questa parte Vai così Impenna tutto Vai 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 Ok Impenna ancora Quest'altro ce l'ho Ok Ora dice che sono in prima Va bene Dove si trova questo Ah Dall'altra parte Dall'altra parte Che sicuramente Sarà chiuso In qualche modo Vabbè Comunque Andiamo Andiamo qui Probabilmente da sotto Ragazzi Sarà chiuso Il parcheggio Perché Se no sarebbe Troppo facile Vabbè Qui è aperto Allora io entro Ok Niente Tutto aperto Allora andiamo Non so Non so perché il primo Non sia più primo Sinceramente Perché Era facilissimo Ragazzi A meno che non sia chiusa L'ultima parte Questo può essere Questo potrebbe pure essere Vai Continuiamo Qui c'è il checkpoint Perfetto L'ho preso Ora Dove dobbiamo andare Qui c'è l'altra rampa Ragazzi Si continua Io Insomma Ho recuperato La prima posizione Buona Vai Perfettissimo Altro checkpoint Ok Manca l'ultimo O è il traguardo Ultimissimo Ragazzi È il traguardo Stiamo calmi Vola Checkpoint preso È il traguardo Il traguardo Sarà da qualche parte Lì Va bene Allora Sgommiamo Non penso sia sotto No no Io penso ragazzi Che sia Insomma Nel tracciato Quindi devo fare Questa barriera E poi arrivare Al traguardo Cioè non penso sia Si atterra Penso proprio di no Sarebbe assurdo Impegniamo qui Ok Dammi sto traguardo No non c'è ragazzi E dove è giù Allora Vediamo un po' Si è giù È giù Niente vabbè Comunque andiamo a concludere Prima posizione Il personaggio è impennato Da sola Alla fine Comunque sia Niente ragazzi Abbiamo giocato delle gare troll La prima è stata Veramente facile Veramente facilissima ragazzi Sono uscito dalla scatola E praticamente Ho trovato Il checkpoint O comunque sia il traguardo Quindi proprio troll box A tutti gli effetti Qui invece Ho avuto un po' Di difficoltà All'inizio Poi però Comunque sia Prima posizione Anche qui Come vi ho detto Prima ragazzi Ho la febbre Quindi non sono stato Magari al 100% Però comunque sia Ho voluto portarvi un video Perché era veramente Da tanto tempo Che non ne facevo qualcuno E spero nei prossimi giorni Di portarvene Tanti altri Qui è Dexta Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao